La crisi che investe tutta l'Italia non ha risparmiato Savigliano, dove la precarietà lavorativa non è più un'eccezione, le difficoltà delle famiglie aumentano ed è sempre più problematico per un giovane costruirsi un progetto di vita a partire dalle condizioni di instabilità economica. A fronte di questa situazione si tende a tagliare la spesa sociale, considerata improduttiva, ma senza attività di sostegno alle comunità e di prevenzione del disagio, gli effetti della crisi produrranno nuovi problemi. A Savigliano dall'inizio del 2012 mancheranno i fondi per i progetti di educativa di strada, ludoteca e centro famiglie che si occupano di prevenzione e promozione del benessere rispettivamente con i minori adolescenti, i bambini e le loro famiglie. Ecco perché le associazioni di volontariato di Savigliano, le associazioni sportive del commercio, supportate dal comune, da tutte le parrocchie saviglianese e dal consorzio in Monviso Solidale, si sono inventate il progetto Tutta mia la città. Si tratta di una raccolta fondi utile a sostenere le attività sociali, raccolta alla quale tutti, saviglianesi e non, possono partecipare. Il territorio di Savigliano è stato diviso in tanti settori che potranno essere acquistati contribuendo al mantenimento dei servizi di educativa di strada, ludoteca e centro famiglie. Ognuno può destinare il suo contributo all'area che preferisce, quella più vicina alla sua abitazione o quella a cui è più affezionato. Nel sito tuttamielacittà.com verranno pubblicati i nomi di tutti i sottoscrittori e si potrà controllare anche la progressione della copertura del territorio. Tutti i fondi raccolti al netto delle spese di organizzazione andranno a finanziare i progetti in questione. Grazie.